Oggi la Lega è diventata il primo partito d'Italia e scusatemi se mi permetto, se mi prendo un piccolo merito, ma anche grazie al mio libro, io sono Matteo Salvini, si è raggiunto questo risultato. Perché si è raggiunto questo risultato? Perché gli italiani non sono stupidi, hanno capito finalmente come opera una certa sinistra. Bene, una sinistra che mette in moto la macchina del fango nei confronti di chi è vicino in qualche modo al ministro dell'interno, anche soltanto facendogli un'intervista, ripeto, un'intervista come quella contenuta nel mio libro. Gli italiani non hanno apprezzato affatto ciò che è stato fatto al Salone del Libro, al Salone del Libro dove sono stata censurata. Per me non era una novità però, perché negli anni passati ero già stata censurata dalla sinistra. All'epoca del governo Renzi, quando il ministro era la senatrice Roberta Pinotti, venivo totalmente censurata dalle rassegne stampa, non mi venivano più inviati i comunicati stampa, non avevo più possibilità di partecipare alle manifestazioni del Ministero della Difesa, di cui mi ero occupata fino a poco tempo prima, finché non c'erano i governi precedenti. Quindi la macchina del fango della sinistra io la conosco molto bene, non mi ha spaventato, tanto che avete visto sono a un certo punto entrata al Salone del Libro mostrando. Io sono Matteo Salvini e addirittura di fronte a quel collaboratore della Feltrinelli che si era permesso di cantarmi Bella Ciao davanti, pensando appunto che fosse un gesto di furbizia. Bene, furbizia fino a un certo punto. La macchina del fango si è messa in moto anche in un altro modo, attraverso i giornali di partito, Repubblica, Fanpage, Cruciani e Parenzo alla Zanzara, Aldo Grasso, hanno iniziato tutti a sparare contro di me dicendo il Libro della Giannini è un flop. Bene, cari signori, il Libro della Giannini, io sono Matteo Salvini, oggi mi è stato comunicato che è alla terza ristampa, quindi siamo a 15.000 copie vendute. Il Libro della Giannini è già esaurito nelle librerie, è già esaurito online e quindi, signori cari, adesso rosicate voi. La Lega è il primo partito in Italia e il libro, dichiara Giannini, è il più venduto d'Italia. Buon pomeriggio a tutti.